Ciao a tutti da Matteo di Audiocostruzioni. Oggi abbiamo un video molto particolare, una domanda abbastanza provocatoria. Qual è la differenza tra un diffusore che costa 1000€ e un diffusore che ne costa 10.000€? È una domanda che a tanti può sembrare scontata, la cui risposta possa sembrare molto facile, molto semplice. Che però porta a dei ragionamenti molto importanti nel campo dell'audiofilia e dell'alta fedeltà. Innanzitutto vi dico che questo video non l'ho assolutamente fatto da solo. Ho chiesto l'aiuto al mio grande amico e anche al nostro grande cliente Cristiano, di cui trovate i riferimenti nella descrizione e nel primo commento qui sotto, che mi ha scritto appunto qualche cosina, qualche diciamo indicazione per fare questo video al meglio. Gli ho chiesto aiuto visto che era un video abbastanza complesso. Partiamo subito e diciamo che questo confronto l'ho fatto con due diffusori, per avere giusto un punto di riferimento, che sono le Magnat, le Transpulse 1500, che sono i diffusori che costano all'incirca un migliaio d'euro. Le vendiamo nuove scontate a 950€. Sono diffusori molto validi che stiamo vendendo molto bene. Vedrà con un woofer da 15 pollici caricato Bass Reflex, insomma c'è la recensione completa nel caso in cui state interessati a quel diffusore. E lo confronto con un diffusore che ha sempre un woofer da 15 pollici, quindi parliamo di prodotti molto importanti. Oggi le Tannoy, le Arden, la nuova serie, che hanno un prezzo di listino, ahimè, molto importante, 9800€, quindi andiamo circa a 10.000€. Ovvio che è un prezzo di listino, dopo c'è una particolare scontistica, soprattutto su Tannoy, però insomma parliamo comunque di tanti soldi. E a me è venuta questa domanda da persona, come dico sempre, ignorante, cioè che ignora l'argomento, mi dice, ma perché io devo spendere 10 volte tanto quando posso prendere un diffusore che è anche più alto rispetto alla Tannoy come dimensione, ha lo stesso woofer, suonerà uguale, suonerà bene comunque, tanto che cosa cambia tra un diffusore tra 1000 e 10.000€? Ecco per cui appunto ho voluto fare questo video. Come mi dice giustamente l'amico Cristiano, le cose fondamentali per effettuare questa prova non sono semplicemente cambiare il diffusore, ma bisogna avere anche una sorgente e un'amplificazione adeguata. Abbiamo imbastito la prova in due maniere differenti. Prima abbiamo utilizzato un'amplificazione abbastanza lineare, abbastanza standard, misurata alle Magnat. E dopo l'abbiamo presa un'amplificazione che è misurata anche per il Tannoy. Cosa intendo? Partiamo dalle Magnat e diciamo un'amplificazione che gli può stare molto bene è l'amplificazione Rotel. Quindi in questo caso ho utilizzato l'RA1572, un integrato a 120W che ha un prezzo scontato intorno ai 1600€, quindi più o meno siamo in linea. E ho fatto la prova con una e con l'altra. Prima la Magnat, poi la Tannoy, poi le invertite e così via. Come dice giustamente l'amico Cristiano, le vere differenze tra un diffusore e l'altro si vanno a vedere quando l'amplificazione è adeguata per il diffusore, ovvero la Tannoy con un'amplificazione Rotel da 120W, non è il problema del vattaggio, il problema è proprio il fatto che non è misurata con un diffusore così importante, con un prezzo così importante, con dei driver così delicati, così raffinati. Bisogna andare a metterci un'amplificazione molto più raffinata, come può essere un'amplificazione Luxman, un'amplificazione Macintosh, insomma qualcosa di completamente diverso. E quindi ho fatto la seconda prova, appunto con un'amplificazione Luxman. In questo caso il 590 AX Mark II, le ho riscontrate le differenze. E quindi qui arriviamo proprio al punto focale della domanda del titolo. Che cosa cambia tra un diffusore tra 1000 e 10.000€? Le differenze non sono ovviamente semplicemente nel cabinet, nella rifinitura dei materiali, nei driver che sono più belli esteticamente, assolutamente no, ma questa cosa è abbastanza scontata. Si hanno differenze sotto un punto di vista della raffinatezza del suono, quindi il suono con la Tannoy, in questo caso risulta essere molto più nitido. L'immagine centrale, quindi l'immagine in questo caso stavo ascoltando, Sadè, ma anche Miles Davis, Bill Eman Street, insomma i miei classici, l'immagine centrale è perfetta, nitida al centro. Sembra ovviamente di avere l'artista in mezzo alla stanza che ci sta riproducendo il suo brano. E si ha anche una profondità sonora, appunto che è sempre sintomo di un'ottima immagine centrale. Cioè riusciamo a riscontrare bene le differenze tra la band che sta dietro, che accompagna, e l'immagine centrale, e l'artista al centro che sta suonando il sax, la tromba e tutto quello che vogliamo. Si ha quindi una completa e differente dinamica, macro e micro dinamica. È completamente diversa. Per l'appunto le transizioni tra i medi e i alti e i bassi sono perfette. Con la Tannoy abbiamo un basso che non è assolutamente, basso che c'è, è molto importante, ma è centrato, assolutamente perfetto, esattamente uguale alla riproduzione di un contrabbasso, di un basso elettrico, insomma, dello strumento che vogliamo. Esattamente uguale, identico. Sembra davvero di avere una band che ci sta suonando in casa. Ovviamente con la Magnat, con la Transpulse 1500, tutto ciò non si ottiene, però è un diffusore molto, molto riuscito. Come dice giustamente l'amico Cristiano, forse se un neofita si approccia a questo mondo, entra in questa stanza e fa la prova tra la Tannoy e la Magnat, magari non riscontra proprio le differenze immediatamente, perché è questo il mondo dell'alta fedeltà, cioè un mondo in cui le differenze si assottigliano sempre di più, più si sale ovviamente, e che ha bisogno di un orecchio abbastanza allenato, che riesca a sentire bene e a percepire bene le differenze tra un diffusore e un altro, tra un'amplificazione e un'altra. La Magnat ha un suono in cui ovviamente le sonorità sono tutte più calde, più rotonde, il basso è più lasciato andare, come piace a molti, non è così centrato come la Tannoy, il medio alto assolutamente non è così raffinato come il concentrico della Tannoy, insomma c'è un'enorme differenza, enorme differenza però nei minimi dettagli, ovvero se volete ascoltare la musica come sottofondo, senza assolutamente concentrarci troppo, a voler ricreare un'immagine centrale focalizzata esattamente al centro, con la macro e la micro dinamica, va benissimo anche la Magnat, e al 99% delle persone andrà bene una Magnat, ma se noi siamo degli audiofili pazzi, come siamo tutti noi, e vogliamo ricercare la perfezione sonora, ovvio che bisogna investire cifre importanti purtroppo, e hanno dei listini questi di diffusori molto importanti, come dicevo prima ci sono buone scontistiche, però assolutamente prezzi molto molto importanti, ovviamente in questo caso ho fatto la differenza tra una Tannoy e una Magnat, potevo fare tranquillamente la differenza tra una Indiana Line e una Sonus Faber, per restare in casa italiana, insomma giusto per avere un punto di riferimento. Un'ulteriore cosa importante che mi faceva vedere, mi faceva riscontrare l'amico Cristiano, era l'incisione, il fatto dell'incisione, oltre all'amplificazione e alla sorgente CD vinile, quella che vogliamo, che deve essere di ottima qualità per percepire queste differenze, serve avere anche un'ottima incisione, perché come scrive lui, il software può andare a danneggiare l'hardware, parlando diciamo, facendo un'analogia nel campo del computer, ovvero se l'incisione non è buona, se stiamo ascoltando come stavo ascoltando prima, dei CD degli anni 40, del jazz anni 40, 50, che sono incisi assolutamente non bene, non si riesce a percepire tutte queste differenze, di dinamica, di profondità della scena, focalizzazione, ovviamente sono molto molto più contenute queste differenze, così come se stiamo ascoltando della musica elettronica, piena di distorsioni, piena di effetti, non si riesce assolutamente a percepire queste differenze, serve avere delle incisioni che sono esattamente molto fedeli alla realtà. Benissimo, ora che vi ho fatto questo pippone su quali sono le differenze, mi piacerebbe farvele ascoltare brevemente anche tramite YouTube, ascoltiamo prima la Magnet e poi passiamo alla Tannoy, e dopo ci vediamo per le conclusioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, forse da YouTube non si percepisce così bene tutto quello di cui vi ho raccontato prima, però secondo me c'è una bella differenza anche qui con questa registrazione, con il nostro microfonino. Per l'appunto, per il 99% delle persone, questo risultato con la Magnet va benissimo, se abbiamo una stanza abbastanza grande, questi diffusori sono incredibili e vanno molto bene. se siamo tra quei l'1% delle persone che diciamo che vuole ricercare la perfezione sonora, ovvio che bisogna parlare di prezzi molto importanti e anche dei prestazioni che sono assolutamente adeguate al prezzo. non sono soldi buttati, questa è la questione fondamentale. Ci sono dei driver che costano l'ira di Dio, abbiamo un concentro con una tecnologia molto particolare, se voi aprite la Tannoy trovate un concentrato di tecnologia pazzesco. bisogna appunto adeguarsi anche con un'amplificazione di livello, Luxman, Mekinto, Shakufase e quant'altro. Bisogna investire cifre importanti, però si ottiene davvero davvero tanto, si ottiene davvero un godimento sonoro pazzesco. Io vi ringrazio per averci guardato, ringrazio ancora l'amico Cristiano di cui trovate riferimenti qua sotto, se avete voglia di scrivere qualche mail, chiedere qualche impressione sonora, e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Matteo.